Il programma di successo Ballando con le stelle ha vissuto un momento di grande sorpresa con l'abbandono inaspettato di uno dei ballerini professionisti, Angelo Madonia. Questo evento ha scosso il pubblico e i fan del programma, generando curiosità e speculazioni sui motivi dietro questa decisione improvvisa. In seguito all'abbandono di Madonia è stato annunciato il ritorno di Samuel Perón, un volto storico del programma. Perón ha iniziato le prove con Federica Pellegrini, ex partner di Ballo di Madonia, creando un mix di emozione e attesa tra i fan. Le prime immagini del duo in sala prove sono state condivise durante la puntata di La vita in diretta, mostrando la determinazione di Pellegrini nell'affrontare questa nuova sfida a pochi passi dalla finale. Il ritorno di Samuel Perón ha suscitato reazioni entusiastiche tra i membri del cast e i fan. Il ballerino ha condiviso un video su TikTok, esprimendo la sua gioia per il ritorno nel programma e la sua emozione nel lavorare con Federica. I colleghi, come Anastasia Kuzmina e Luca Favilla, hanno commentato il video con entusiasmo, mentre Carolyn Smith ha applaudito virtualmente il maestro. Anche i fan non vedono l'ora di vedere Perón in pista, dimostrando quanto si è amato e rispettato.